Allora, abbiamo iniziato praticamente dalla fine, però va bene ugualmente. Buongiorno a tutti, grazie veramente di essere qua questa mattina per questa sigla di questo protocollo molto importante, su un argomento credo che sia non solo importante, nevralgico e centrale per la nostra regione, che è quello della sanità, del sistema sanitario, in una fase di riforma e soprattutto di scrittura dell'atto più importante, che è l'atto aziendale, che è l'atto che poi è propedeutico all'erogazione di tutte le prestazioni dei servizi nelle aziende e nei territori. Ecco, a me fa molto piacere, a me a nome anche poi parleranno il vicepresidente sottosanitario di tutta la Giunta, fa molto piacere riuscire a raggiungere un punto di sintesi che riteniamo fondamentale e nevralgico. Per tanti motivi, perché al di là, lo dicevo anche poc'anzi fuori, al di là delle posizioni che potrebbero e possono non convergere sempre all'unanimità, anche per esigenze di natura diversa, perché chiaramente il ruolo dell'azienda non è il ruolo della Giunta, non è il ruolo del sindacato e così viceversa, però diventa fondamentale intorno a questa riforma che non è importante solo per la Giunta, è importante, credo per tutta la nostra Regione, perché l'organizzazione del sistema sanitario regionale è fondamentale per l'erogazione delle prestazioni dei servizi, per la soddisfazione delle categorie e delle fasce più deboli. Ecco, in questa fase è fondamentale che questa riforma possa avere il più ampio grado di comprensione, di individuazione delle criticità e di risoluzione di quelle che sono le opportunità che invece potrebbero essere messe in campo. Le priorità che vengono citate sono tante, a iniziare chiaramente dall'abbattimento delle liste d'attesa, ma io penso, ad esempio, che una delle più grandi e importanti priorità che noi dovremmo raggiungere è il grado di appropriatezza delle prestazioni più soddisfacenti possibili, perché per il tramite delle prestazioni che possono essere giuste, si può anche arrivare, per il tramite una giusta appropriatezza, si può arrivare ad un'erogazione delle prestazioni che siano maggiormente efficaci. In questo senso, dicevo che questo protocollo rappresenta un valore molto importante, ma non voglio andare oltre. Io ora passerei la parola, come facciamo? Prima la giunta, prima, apporto, al vicepresidente, al sottosegretario, poi al vicepresidente, poi facciamo GGL e Gisnerville, ok? Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Condivido pieno quello che dice il Presidente, è un atto molto importante e sono dieci punti che sono stati messi prioritariamente, anche se non sono i soli, non saranno sicuramente i soli, di collaborazione e discussione. Ecco, ho citato appositamente collaborazione, non può essere solo un momento di rendere, portare a conoscenza di atti, decisioni, cioè deve essere un momento in cui insieme si vanno a individuare i problemi, a trovare le soluzioni, le soluzioni migliori. Penso in particolare a Emergenza Urgenza, un capitolo importantissimo dove sono confesso, ansioso di avere un confronto e vedremo presto come potremo e dove potremo andare a organizzarci. Penso alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi in sanità. La sanità ha bisogno di nuovi modelli organizzativi e nuovi modelli organizzativi comportano cambiamenti di comportamenti, cioè sono veramente impegnativi dal punto di vista della realizzazione e qui ci vuole l'impegno e lo sforzo di tutti e contiamo sulla collaborazione di tutti voi. Con questo, ecco, chiaramente io do la mia disposizione e poi avremo modo di riparlarne sui singoli problemi. Grazie. Vice Presidente. Scendendo non nel merito di questo protocollo che è stato elaborato a seguito di una serie di incontri con le Confederazioni c'è da tener conto che dà attuazione a principi costituzionali. Come voi sapete il principio di uguaglianza, così come nasce dalla rivoluzione francese fino ai nostri giorni, si è connaturato con l'individuazione di questo Stato sociale, il cui aspetto più importante è il diritto alla salute e i servizi sociali. Ci sono dei modelli in Europa per cui si parla di Stato sociale, social state nella Costituzione tedesca, ma in quella italiana, quella scritta diciamo così dai padri costituenti che rappresentavano un po' tutti i partiti, c'è questa particolare attenzione al mondo del lavoro. Quando si parla infatti di che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza impediscono la piena realizzazione della persona umana e la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, una parte molto spesso non è. Quindi i lavoratori, così come sono rappresentati dalle confederazioni che oggi sono firmatari, che rappresentano milioni di persone, sono i soggetti chiamati per Costituzione a rappresentare tutto questo mondo. E io aggiungo che questo ruolo non è sostitutiva della rappresentanza democratica elettiva, ma è collaterale, questo ruolo di rappresentanza e di particolare rilievo si tenga conto che loro rappresentano milioni di lavoratori che sono la parte più importante che contribuisce al finanziamento dei servizi sociali. Sono milioni di lavoratori che attraverso l'IRPEF finanziano i servizi pubblici e nel momento in cui in tutta Europa e in tutti i paesi occidentali c'è la crisi del modello dello Stato sociale proprio perché il finanziamento attraverso l'aumento delle tasse diventa impraticabile posto il livello altissimo di tassazione, si impone che ci sia una visione molto concreta dei diritti e soprattutto un efficientamento dei sistemi. E quindi chi meglio delle confederazioni che oggi firmeranno il protocollo, che hanno anche una rappresentanza nelle migliaia di lavoratori, lavoratrici, del personale, chi meglio di loro sono in grado di individuare questi percorsi. Io penso che questo è stato un lavoro a cui ho creduto tantissimo ma è stato anche voluto dal Presidente Acquaroli sia un modello innovativo per risolvere problematiche sociali molto complesse in una fase in cui ci sono milioni di persone che sono molto scontenti per la qualità e la quantità dei servizi sociali interogati e questo chiaramente danneggia anche la risoluzione di problemi complessi come quelli che noi abbiamo di fronte. Quindi mi pare che l'importanza di questo protocollo non risieda tanto in una firma ma in un modello che è un modello che si articola nella nostra regione e che vuole garantire una rappresentanza concreta a tutti i cittadini ma in particolare a milioni e milioni di lavoratori che spesso non trovano le prestazioni che naturalmente desiderano. Io concludo per ringraziare i segretari con cui al di là di scontri che sono nei ruoli delle parti. Vi voglio ringraziare però perché in questi anni hanno sempre portato sul tavolo problemi concreti, non si sono diciamo così chiusi dietro a steccati ideologici, no? Perché chiaramente la domanda dei servizi sociali è una domanda infinita, no? Cioè non c'è una domanda a chiudere, la domanda è sempre di aumentare, raddoppiare, triplicare e questo comporta chiaramente che nei momenti in cui la domanda infinita dei servizi sociali, soprattutto in una regione che registra come altre un invecchiamento della popolazione possa individuare esattamente le priorità e soprattutto estendere la qualità dei servizi che forse fino ad oggi non c'è stata. Quindi sono molto contento e lieto di questa giornata e non è un caso che oggi sia il 21 marzo primavera e mi piacerebbe che questa possa essere una nuova primavera per i servizi sociali e soprattutto per i diritti sanitari. Grazie Vicepresidente. Ora in ordine per come sono scritti il CGL, il Segretario Generale Giuseppe Santarelli. Io sarò molto breve e intanto ringrazio il Presidente, l'Assessore Vicepresidente, il Dottor Salvi per la disponibilità. Io mi vorrei concentrare su tre questioni diciamo. Innanzitutto quel protocollo è un protocollo di metodo, è importante, è uno strumento, non può essere il fine. Quindi è chiaro che è uno strumento di cui noi ci dotiamo, sia la parte politica che anche la parte sindacale e ci auguriamo appunto che le cose che sono state scritte, sono state esiglate, vengono rispettate. L'altra questione è che non basta la volontà politica che è stata espressa qui perché io credo che anche diciamo la Regione nei suoi dipartimenti deve strutturarsi per affrontare, per poter praticare questo protocollo perché c'è bisogno di una struttura che lavora, ci sono aspetti che riguardano il confronto di merito sui temi ma ci sono aspetti ad esempio molto importanti, sono stati sottolineati che riguardano tutta la parte del monitoraggio. Allora per far funzionare questo protocollo bisogna che ci si strutturi anche in una certa maniera. Per noi il monitoraggio ad esempio è un fattore fondamentale perché è chiaro che noi siamo un soggetto che rappresenta migliaia di lavoratrici, lavoratori, operatori sanitari e cittadini, abbiamo il nostro punto di vista, abbiamo la nostra esperienza, però crediamo che poi questi punti di vista devono essere supportati dall'evidenza anche dei dati e che non sempre è facile interaccettare e capire. Quindi i dieci punti per noi sono le priorità su cui ci troveremo e proveremo a lavorare come abbiamo cercato di fare anche in questi tre anni con voi. Credo che ci siano aspetti che riguardano il rafforzamento degli organici, del personale, che secondo me è un aspetto in questo momento di grande sofferenza, perché sappiamo i grandi sacrifici che il personale ha fatto e sta continuando a fare, sappiamo quali sono le dotazioni organiche e quali sono le difficoltà. E l'altra questione, poi lascio la parola ai colleghi, oltre alle cose già dette al Presidente, la lista d'attesa, il tema della mobilità passiva su cui già abbiamo provato a imbastire un confronto, è secondo me in questo momento il tema dell'esternalizzazione dei servizi e anche in parte delle funzioni, è un grande tema nazionale, non riguarda solo la sanità, riguarda gli enti locali, riguarda tutta la pubblica amministrazione, però è un tema che va monitorato, perché in questo momento rappresenta una delle voci più importanti di uscita della sanità pubblica. Quindi utilizzare al meglio le risorse, anche provando a fare un'operazione di reinternalizzazione di alcuni servizi, perché? Non perché noi siamo ostinatamente per il pubblico come abbastanza noto, ma perché crediamo che la qualità anche dei servizi passi attraverso l'erogazione diretta, perché più si esternalizza, più si esternalizzano funzioni e più purtroppo siamo di fronte a una perdita anche della qualità, come diceva il Presidente dei servizi. Quindi la chiudo qui, ecco, noi per nostra natura siamo sempre disponibili a fermare accordi e protocolli che vanno dalla direzione del confronto e quindi non ci sottraghiamo nemmeno questa volta a questa proposta e quindi lavoreremo nei prossimi mesi perché venga attuato il protocollo. Grazie a segretario CGL Marche Giuseppe Santarelli. Passiamo la parola al segretario CISL Marche Marco Ferragudi. Sì, grazie, anch'io molto velocemente, è stato detto molto, non voglio sovrappormi ovviamente a quanto è stato già annunciato, se non per ringraziare il Presidente, il Vicepresidente, il Sottosegretario, tutta la Giunta insomma per aver accolto insomma il nostro invito a cercare di sottoscrivere un accordo che per noi è molto importante, non solo simbolicamente oggi è la primavera, ma potrebbe essere, noi ci auguriamo che sia una svolta vera rispetto alle relazioni sindacali. Si colloca appunto in un momento importante, non solo perché è il 21 marzo, ma perché sappiamo che nelle prossime settimane e mesi occorreranno fare quelle scelte necessarie per migliorare il sistema sanitario, sistema sanitario che deve essere sempre più vicino e rispondente alle esigenze delle persone, lavoratori come si diceva e pensionati, tutti i cittadini, dobbiamo cercare di raccogliere e comprendere le fragilità, le esigenze. Tra serve il coraggio di fare scelte di merito, ma anche di merito, specifiche e di largo raggio, una delle questioni più delicate secondo noi significa riequilibrare, dover equilibrare perché la salute non è soltanto ospedale, la salute è rete ospedaliera, domiciliarità e prevenzione. Occorre su questo frangente concentrarci, cercare di capire le esigenze, come siamo organizzati e avere la possibilità di rivedere l'impostazione attuale. Un altro aspetto molto importante di questo protocollo, oltre a quelli che si diceva, è cercare di replicare qualcosa di simile anche nei territori, perché da ASUR siamo passati alle AST e anche lì c'è esigenza nei territori e nelle AST di confronto, quindi come abbiamo scritto in questo protocollo ci auguriamo che anche quindi nei territori da domani nascano momenti come questi e si avvino tavoli come abbiamo appunto sottoscritto. Quindi noi come CISL insieme alla nostra categoria dei pensionati parteciperemo da domani con rinnovato ottimismo e con il spirito costruttivo che c'è sempre contraddistinto. Grazie, grazie a segretario della CISL. Ora la parola passa a Claudia Mazzucchelli, segretario generale della Will, Mark. Ma intanto penso che oggi sia un momento importante. Noi fermiamo questo protocollo che è un protocollo di metodo che nasce da un lavoro, non lo abbiamo fatto all'insediamento della Giunta ma c'è stato un lavoro dietro, io in qualche maniera potrei dire che ce lo siamo conquistato ma reciprocamente perché abbiamo provato un po' sui tavoli, un po' protestando, a individuare quello che poteva essere una modalità di confronto e alcune parole chiave delle modalità di individuare quello che poi è l'interesse dei cittadini marchigiani, una sanità di qualità, un progetto comune di sanità che di fatto identifica quella che è la cifra di una società, se la sanità funziona quella è una società comunque sana, che si sviluppa, che ha prospettive di futuro. Quindi è un indice importante e penso che noi oggi qui firmiamo questo protocollo di metodo che chiaramente poi deve essere agito, però lo facciamo con convinzione perché pensiamo che ci possano essere gli elementi per costruire insieme ognuno chiaramente secondo le sue prospettive, quelle che porta avanti il sindicato, quella che porta avanti chi di fatto ha dei compiti istituzionali ma che ci possano essere delle prospettive per fare insieme un lavoro nell'interesse, in questo caso su ciò che è così importante che è la salute dei cittadini, nell'interesse appunto, nel loro interesse. Protocollo che noi auspichiamo chiaramente che possa essere riprodotto anche in altri aspetti della vita di interesse confederale che chiaramente ci coinvolgono il confronto con la Giunta per cui questo può essere un buon viatico, diciamo che può essere anche io mi associo alla primavera delle relazioni sindacali con la Giunta. Chiaramente, come ripeto, questo è un primo passo, abbiamo definito le regole, poi sta a noi agire e rispettarle. Grazie. Ora, se ci sono delle domande, non mi sembra che ci siano delle domande, io vorrei ringraziare le forze sindacali perché oggettivamente credo che il confronto possa essere un valore. Abbiamo detto, noi abbiamo peculiarità diverse che ci vengono anche dai ruoli che sono diversi, quindi questo è sotto gli occhi di tutti. Però davanti a riforme importanti e a provvedimenti che poi toccano tutti i singoli cittadini, credo che sia importante il confronto perché ognuno può apportare nella convergenza, ma anche nella divergenza può portare un contributo. Il contributo è giusto che venga raccolto, valutato, venga anche pesato perché noi avremo, ad esempio, voglia di fare tante cose però non ci sono risorse perché mancano le risorse finanziarie, anche se un segnale è stato dato, comunque il difinanziamento della sanità ormai è una questione della nostra regione che parte da tanti anni, mancano a volte anche i medici, penso i medici di medicina generale, se abbiamo un turnover 1 a 7, 1 a 2, cioè 2 vanno in pensione, 1 entra, è chiaro che ci sarà un problema, però questo non comporta la necessità di fare percorsi diversi. È importante alla fine individuare punti di caduta, cercare di individuare punti di caduta che possono essere un patrimonio comune e condiviso per le istituzioni, per il ruolo delle istituzioni a cui apparteniamo, ma anche per, credo che l'obiettivo che alla fine ognuno di noi, da anche presupposti diversi, persegue, cioè che è quello della salute, del bene della nostra comunità. Quindi veramente grazie perché per noi non è solo un metodo, è un metodo su cui basare e lavorare alla realizzazione di alcuni obiettivi e principi che sono irrinunciabili per ognuno di noi. Quindi veramente grazie e buona prosecuzione. Buona primavera!